Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. E' il primo episodio che faccio. Facciamo una partita scontro, se la troviamo. Speriamo di trovarla. Allora, stava facendo il caricamento adesso. Ecco qua. Allora, illimitati, illimitati. Perfetto questo. E' anche bello, Death Quatch a squadra. Perfetto. Ecco qua, la mia dotazione è stata cambiata. Guardiamo la dotazione. Speriamo che non ci... espellino. Pronto. Ecco, no, appunto, se ho 5-5, no, magari mi espellino perché... Vabbè, speriamo di no. Sperando anche che questa partita cominci. Questo qui, ripeto, è il primo episodio. E molto probabilmente ne farò altri. è un buon passatempo, per dire. E' un buon passatempo, per dire. Allora, qui non partiremo più. qui tutti quelli in partita stanno... prendendo, scherzando, giocando. Sì, 2 contro 7, non ci faranno mai. 5-5, perfetto. Ok, non stiamo ancora partendo. 4 contro 6. 4 contro 6. Forse, forse. Dai, partiamo. Ecco qua, siamo partiti finalmente. Ok. Ovviamente, per fortuna, il gioco è in italiano. Per fortuna, il gioco è in italiano. richiesto, per fortuna, il gioco è andato. E prima, attra l'armi evo la sia un'euro. Per fortuna, il gioco è inizia. Un'euro con un'euro. Per fortuna, il gioco è un'euro. Cos'è la assenza nella città parte. Ho questo, per fortuna, il gioco è un'euro. Ho questo, per fortuna, il gioco è un'euro. Aiaiai Bruta morte Vabbè per fortuna I rientri sono illimitati Quindi non ci sono problemi Se si muore tante volte Proprio adesso è morto che mi ha ucciso Oggi sono da solo Non sono in compagnia di mio fratello Patrick E' comunque qui con me Non è con me la partita Sta preparando altri video Per caricarli Quindi se sentite un po' di musica Non vi spaventate Non ci credo stiamo vincendo Vieni a morire Basta Sempre lo stesso No non è sempre lo stesso No dai proprio Oggi non è giornata Riecomi qui Moriremo di nuovo La madre Scusate per il brutto termine Un'altra morte Grande Sinceramente Mentre faccio video Odio usare termini Come questo No mi sono cercato da solo Anch'io però Coglio Scusate di nuovo Che sono andato lì Anche se ho visto In granata Ricominciamo di nuovo Per la quarta volta Non vado più per dir Perché mi sono brutta Veramente tanto Facciamo la strada Dell'inizio In granata Che ecco il bene Che è passato davanti Tu non lo uccidi Non è il mondo No Grazie Mancherò 5 minuti 49 secondi Alla fine della partita Quindi credo che farò Un video ogni partita Tua nonna In cui Quindi subito dopo questo Cioè non farò A parti ovviamente Saranno Episodi No ma che sfiglia No veramente ragazzi Oggi non è giornata Comunque vi ricordo Che molto probabilmente Caricherò O caricheremo Io insieme a mio fratello Video Forse anche uno al giorno Però molto probabilmente Più di uno Oggi non c'è e vai ragazzi oggi è giornata forse ragazzi ma nel lontano forse grazie 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 mamma santa mancano due minuti e 25 secondi al termine di questo episodio tua mamma ce l'avevo davanti è uno dietro ovviamente come su minecraft così su vegas tua sorella il calore vabbè sto dicendo come su minecraft così su vegas faremo farò video da massimo una decina di minuti come come avevamo già detto no mi sono cercato stavo seguendo la mappa tanto so già che vinciamo perché siamo già a 60 potete vedere in basso a sinistra siamo di preciso a 63 3 63 a 56 non ci credo non ci credo ragazzi s non ci credo se di non ci credo che non ci credo tipo colore tipo se guarda così e c'è un amico o qualcuno una persona umana ad esempio ecco vedete la luce la luce fa calore diciamo e niente e per questo è tutto vabbè per questo episodio è tutto ricordatevi che se volete potete iscrivervi mettere un pollice in su e commentare vabbè ciao ragazzi alla prossima